Mattinata di incidenti stradali, il più grave a Mussolente, dove un motociclista è rimasto ferito nel sinistro che si è verificato in via Vittoria. Il Centauron, settantenne di Udine diretto verso Bassano, non è riuscito a evitare la Citroen C4 che lo precedeva, guidata da un 69enne di Montebelluna, che ha frenato improvvisamente per non tamponare a sua volta l'auto che si era fermata all'altezza delle strisce e zebrate per far attraversare un pedone. Fortunatamente tutti i veicoli procedevano a velocità contenuta, il motociclista nell'impatto è stato sbalzato dal mezzo finendo a terra. È stato soccorso da alcuni residenti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che l'ha trasportato al San Bassiano per accertamenti. Non è in pericolo di vita, sempre gli stessi hanno quindi regolato il flusso del traffico, pesantemente rallentato lungo via Vittoria, fino a che sono giunti i carabinieri per i rilievi. Altro sinistro stradale, questa volta a Bassano, in Viale delle Fosse, all'intersezione con via Chilesotti. Per causa del vaglio della polizia locale, tre auto si sono tamponate. Una donna ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso.